Marco Molina è il nuovo presidente della Federazione Italiana Rugby Abruzzo. Qual è la linea che lei intende tracciare, le cose che vorrà imprimere per rilanciare il movimento regbistico abruzzese dopo un anno che è stato anche di difficoltà, l'anno della pandemia ovviamente? Allora, insieme agli altri presidenti che hanno proposto la mia candidatura e che ringrazio, insomma, 12 società si sono ritrovate intorno a un tavolo e hanno condiviso un progetto che è un progetto di ripartire dal campo, per cercare di riavvicinare e di far tornare la gente e rinnamorarsi di questo sport. C'è un pochino di distacco dovuto a tante cose, dovuto alla pandemia, dovuto alle tante situazioni che abbiamo dovuto affrontare qui in Abruzzo. Non ci sono responsabilità e non vogliamo andare a cercare responsabilità. Come se stessimo giocando una nuova partita, scendiamo in campo e dal campo ripartiamo per cercare di fare qualcosa di positivo e di riportare l'Abruzzo a fare qualcosa di un pochino più importante di quello che si sta facendo adesso. Non significa che non stiamo facendo cose importanti, ma è chiaro che comunque bisogna tornare a far parlare l'Abruzzo come di una regione di rugby, di rugby vero, di rugby giocato e per dare prospettiva ai ragazzi. Come ogni presidente ci sarà sicuramente un programma, anche se non scritto. Che cosa ci sarà allora al centro del programma di Marco Molina, presidente della FIRRA, Abruzzo? Come dicevo, al centro del programma c'è il ritorno al gioco. Sarà un anno particolarissimo perché non sappiamo che cosa ci aspetta, quante società saranno in grado di rimanere in piedi, ci sono delle importanti novità a livello federale per cui le under diventeranno dispari, ci sono delle importanti novità che si andranno a interfacciare con una realtà che è quella nazionale che stiamo vivendo di una pandemia che ancora non possiamo dire di aver risolta. La nostra volontà è quella di divulgare il nostro sport al massimo verso i giovani e di utilizzare il nostro sport e i valori che in esso sono contenuti, rendendoli reali, non rendendoli solo virtuali, per rilanciare qualcosa che deve essere importante per i ragazzi e che deve essere importante per ogni regbista. Vorremmo tornare a mettere al centro del ragazzo che gioca al rugby la società, il campo e tutto quel movimento che può essere utile e funzionare per la sua crescita e per la formazione. Grazie a tutti.